Pescara che è stato da prossimo alle ore 17.30 ospiterà l'Adriatico Cornacchia, il Sestri Levante, Liguri, quintultimi con 11 punti e noi abbiamo, lo vedo già collegato in diretta, Enrico Giancarli con l'attaccante Davide Merola. A te Enrico. Sì Paolo, buon pomeriggio, un saluto a te, un saluto agli amici che ci guardano in diretta al TG8, buon pomeriggio a Davide Merola. Davide, la prima cosa che ti chiedo è se è passata un po' la rabbia di Pesaro. Sì, 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 dai, diciamo che è passata perché siamo già concentrati sulla partita col Sestri e ci siamo rimasti male perché comunque abbiamo fatto un'ottima partita contando pure che abbiamo giocato uno in meno. Gli errori dell'albitro sono stati tanti però abbiamo voltato subito pagina. È stato il miglior Pescara stagionale? Sì, se devo pensare che comunque a uno in meno li abbiamo messi in difficoltà, abbiamo dominato, non abbiamo preso un tiro in porta, ti direi di sì. Tu sei giovane perché sei un classe 2000 ma comunque di partite ne hai fatte tante. Ti era mai capitato che un portiere ti ribattesse un tiro e vi dasse un gol di faccia? No, diciamo di no. Secondo me anche il portiere non se ne è accorto neanche della parata che ha fatto però è stato tutto distinto sia il tiro che la parata. Sestri-Levante, squadra che numeri alla mano nelle ultime cinque ha subito solo due gol di cui uno al novantatresimo sul rigore della Ternana. Sì, sono una bella squadra ma noi prepariamo la partita su di noi, non guardiamo gli altri e andiamo in campo sapendo quello che dobbiamo fare. Come sta il Pescara? Siamo bene. Ma gli episodi di Pesaro possono trasformarsi in energia per il Sestri? Certo, come ha detto il mister che è contento perché comunque ha visto una squadra, ha visto un gruppo che ha reagito nonostante l'espulsione abbiamo dominato quindi abbiamo risposto sul campo e siamo forti e siamo preparati. Ti chiedo le ultime cose proprio su Davide Merola dal punto di vista personale. Dopo la lunga estate passata a curarti dopo l'intervento chirurgico e il problema della pubalgia oggi è il miglior Davide Merola dal punto di vista fisico e deve ancora crescere? No, 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 diciamo che ci sono, finalmente sto bene, sono contento di essere tornato col gruppo a fare allenamento, a fare le partite, la continuità e i minuti nelle gambe mi aiuteranno a star meglio. Tra l'altro hai detto una cosa dopo Lucca che ha infiammato i tifosi, hai detto anche se mi chiamano la B a gennaio io resto qui per prendermela sul campo, lo confermi sì? Vabbè, non vorrei parlare prima perché non so quello che succede, però per ora il mio obiettivo è quello di stare qua a Pescara, di portare avanti quello che ho fatto fino adesso, sia personale che di squadra. E chiudiamo, la promozione va conquistata subito perché il tuo mese di maggio deve essere impegnato a preparare le nozze, non ai playoff. Sì, sì, diciamo che abbiamo già quasi tutto pronto, però prima la facciamo meglio è, dai. Queste le parole Paolo di Davide Merola, che saluto e che ringrazio, la linea può tornare allo studio.